La seconda canzone parla di una donna incontrata, come si incontra spesso una donna nella vita. E questa donna vive delle difficoltà, ma le difficoltà sono di tutti. La seconda canzone parla di una donna che ho metto nella mia vita, e che hanno difficoltà, ma difficoltà sono per tutti in vita, quindi non c'è motivo di essere triste o di solo di sottolineare. E non ho più Più paura Vivere non è mai stato facile, neanche per cantare E ancora io vorrei tornare qui con te Nel tempo delle cose Dove le difficoltà sono tutto e niente Dove ci sei tu E le cose che vivi E adesso che non sei più sola Vorrei ritornare Ancora per un attimo A dirti ciò che eri E poi Dove che andrai A chi racconterai le storie Amici Che ti porti ogni giorno con te A guardare gli specchi Il mare La vita Passare A chi racconta Grazie a tutti. Grazie a tutti.